Un piano sventato dalla polizia appena in tempo. Mamma e figlio sono stati rintracciati nel veneziano a Mestre, prima che la donna potesse portare il piccolo di 4 anni fuori dai confini italiani. Una vicenda umana difficile. Il bambino, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne aveva accertato lo stato di abbandono, era stato affidato ad una famiglia che potesse offrirgli un ambiente stabile e protettivo al fine di non esporla ad un pregiudizio irreversibile per la sua crescita. Alla mamma naturale, che si trova in Italia senza fissa dimora, erano stati assicurati degli incontri periodici protetti. Ed è proprio durante uno di questi che la giovane mamma ha messo in atto il suo piano. Lo scorso 3 febbraio la 25enne è fuggita portandosi via il piccolo e facendo perdere le proprie tracce. Immediate le indagini della squadra mobile che assieme agli agenti delle volanti hanno fatto il possibile per rintracciare la donna ed il figlio ricostruendo i movimenti della fuggitiva. Dopo prolungati appostamenti, in meno di 24 ore, i poliziotti sono riusciti a trovare la donna che si era nascosta a mestre, pronta per partire e portare il figlio all'estero. Una volta rintracciati, gli agenti hanno tranquillizzato il piccolo che sogna un giorno di diventare poliziotto e lo hanno assistito fino all'arrivo dei genitori affidatari che lo hanno riportato a casa. La 25enne straniera è stata invece deferita all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere anche penalmente per la sottrazione del minore.